Ciao sono Giovanni, vengo dal treno di design, mi sto per laureare, guardando le capsule specialmente alla mia ho pensato ad una situazione di tipo comunque vivace, allegro in qualche modo e penso di poter ritrovare questa situazione nel mondo reale. Quello che voglio fare è utilizzare appunto uno strumento che non mi è proprio, che è un registratore vocale, quindi lavorare con l'audio, con il suono e più precisamente con delle testimonianze che andrò diciamo a strappare direttamente dalla gente in qualche modo, dai luoghi affollati, dalle strade. Per giungere ad una sorta di struttura espositiva.